Buongiorno, pensate che ne abbiamo dormito lì? No, adesso vi faccio vedere. Alla Tipperary House in Park Street 7, la quale via ha un tasto alcolico, oserei dire, notevole. Sono le sei e mezza di mattina, ora locale. E siamo praticamente vicino alla Houston Rail Station, da dove dobbiamo partire fra un paio d'ore per andare a Galway. Ne usciremo vivi.